ciao a tutti oggi vlog è tanto che non ve lo giravo avevo voglia di stare un po con voi e di farvi vedere il mio piccolo angolo di paradiso questo quadro qui che vedete alle mie spalle l'ha fatto mio padre sono io quando avevo i capelli lunghi molto molto bello e adesso vi faccio vedere un po dove io giro dove metto tutta la mia skin care seguitemi questo è il mio piccolo angolo del bagno si piccolo calcolate che questo è di mio marito e questo mio ho anche questo mobiletto qui mobiletto chiamatelo come volete dove metto tutte le scorte le cose che comunque so dove andare a cercare e qui metto tutti i miei prodotti questo l'ho comprato su amazon mi sembra sui 15 euro si può lavare perché ci sono degli elastici qua basta toglierli e si lava si 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 toglie tutto praticamente e qua ho tutta la mia skin care in questo mobile o tutte le mie maschere e altre cose che uso un po di meno i miei occhiali da vista e qui è il mio piccolo paradiso qui io registro ho appena finito di editare due video registrati tutti oggi questo è il mio angolo trucco adesso vi accendo le luci vi faccio vedere il flash che da guardate qui è il mio angolo che mi ha costruito mio marito poi qui ho questo mobiletto li tengo tutte le pochette questo mi è stato regalato dalle mie cugine per un compleanno e qui ho tutto il make up che uso di solito scusate il disordine devo mettere a posto ma appena finito di girare due video appunto di qua abbiamo tutti i rossetti fissatori qua tengo tutti le mie matite quindi i pennelli qua nel cassettino ho tutti i rossetti che uso di meno qui tutte le matite che uso meno questi sono tutti i rossetti ho comprato lui alla dm e devo dire che è bellissimo l'ho pagato 3 euro qua ho tutti i campioncini dei profumi qua non possono mancare loro li uso per il trucco questo l'ho preso pure la dm fantastico perché ha il coperchio ed è favoloso e niente qui abbiamo finito poi qua giù o quella è la bottiglia dove metto sempre tutta la moneta e li ho altro trucco li ho altro trucco e questo è il mio piccolo angolo non ve l'ho mai fatto vedere avevo voglia di farvelo vedere e grazie che cosa ho comprato che è bellissimo io amo i teschi guardate che bello è tutto inciso l'ho comprato una bancarella mestre mi è piaciuto un sacco detto è mio niente ragazzi volevo anche ringraziarvi di tutte le parole dolci che mi avete scritto sotto il video dell'altro giorno dove ero veramente giù di morale perché avevo litigato con una persona per me importante la cosa che mi ha dato fastidio di più è stata che alcune persone ci hanno ricamato sopra e la cosa mi ha dato fastidio molto fastidio perché le persone sono cattive io ho capito soprattutto in questo periodo che youtube ha tanti lati negativi e a volte penso non è più un divertimento lascio perdere non non ne vale la pena in realtà poi quando vedi che hai tanti amici che ti scrivono che ti danno forza che ti dicono brava vai avanti tu ci diverti ragazzi cioè mi avete rincuorato poi quel video è servito appunto anche per far pace con questa persona quindi volevo dirvi che sto bene che vi ringrazio tantissimo e youtube purtroppo le persone di youtube purtroppo non sono tutte sincere diciamo che tanti guardano gli iscritti che hai le visual che fai non vedono il divertimento in sé non vedono perché una persona fa video perché alla fine ragazzi la monetizzazione è quella che è siamo tutti canali piccoli e di certo non campiamo con la monetizzazione che ci dà youtube per cui perché essere invidiosi perché dire guarda quella fa più visual guarda quella fa meno visual no ragazzi deve essere un divertimento poi se una persona non ti piace non non ti piace come si trucca non ti piace l'argomento che porta su youtube non siete obbligati a seguirla invece qui si scrive tra di loro vanno dall'amica direi visto quella visto come si è truccata hai visto quante visual no ragazzi non si fa così non si fa così io sono per i vivi lascia vivere io sono una persona veramente quella che vi mostro sono non sono falsa non sono bugiarda e mi è stato dato della falsa anche perché ho negato una collaborazione a una tempo fa che neanche ricordavo sinceramente e mi è stato detto che mi sento una prima donna che che sono falsa cioè tu reputi una persona falsa solo perché ti dice guarda non so se mi ha tagato non mi ricordo voleva un video in collaborazione un tag ma io in quel momento non potevo non era inerente a quello che porto io sul mio canale e sono stata criticata da questa persona che neanche sapevo che mi seguisse e io sono rimasta scioccata ragazzi vabbè ho lasciato perdere non solo una persona che va là dire tu hai detto a quella lascio perdere lascio correre pazienza ci sono persone così anche nella realtà quindi bisogna aspettarsi anche che su youtube ci siano queste soprattutto secondo me su youtube perché c'è gente che fa youtube perché non ha una vita personale e diciamo che si diverte a rompere le agli altri canali però il lato positivo appunto che ve l'ho elencato anche nell'altro video che ho incontrato un sacco di amici ma amici virtuali che mi veramente mi sono stati veramente vicino nel momento del bisogno non che io non abbia amici veri qua perché io sono una persona che ha tanti amici che si porta amici da dalle medie anche ma amici non che ci sentiamo ogni tanto che ci vediamo sempre e che ci sentiamo ogni giorno però certe amicizie loro non le capiscono perché non essendo di questo mondo loro dicono vabbè ma che stai male per una che neanche mai visto io da una parte anche le capisco perché so che non è facile entrare in questo mondo se non lo siano ama la pena guardare i miei video le mie amiche quindi figuriamoci quindi ho trovato rifugio in persone che fisicamente non conosco ma che in realtà ci conosciamo tutti benissimo ormai da mesi perché ogni mattina ci diamo il buongiorno abbiamo formato un bel gruppo ci sosteniamo ci diamo consigli per fare video sempre meglio vogliamo crescere tutti sia canali piccoli che canali grandi quindi non c'è invidia per nessuno anzi ci sono canali che ancora non monetizzano e noi canali un po' più più grandi scusate che cerchiamo magari dargli dei consigli ci scambiamo favori ci facciamo video tag questo deve essere youtube deve essere un modo per staccare dalla realtà dal lavoro e da tutto capita cioè almeno io la vedo così però alcune persone la vedono in un modo differente adesso ragazzi vi lascio non vi porto in giro perché anzi aspetta vi faccio vedere i miei cani lui è Ettore che sta dormendo ha buttato tutto guardate per terra così perché odia la coperta ha il pannolino perché è vecchietto quindi è diventato incontinente adesso vado a vedere dov'è l'altra mia bimba la contessina è sul divano che dorme lei odia essere ripresa lei è la mula conoscete tutti che fa la nanna e questo è tutto per oggi ragazzi vi lascio vi ringrazio di avermi fatto un po' di compagnia oggi in questa giornata uggiosa e hanno previsto anche temporale oggi quindi ragazzi e anche domani quest'estate non vuole arrivare quindi vi ringrazio lasciatemi un like ringrazio anche dislike ringrazio veramente dislike anche nell'altro video dove stavo male bel sei dislike che comunque mi danno visual e alla prossima un bacione ciao